musica musica chang succhia le valigie chang sai che io devo partorire chang hai chang demente per esempio vedo una bottiglia pen alfonso la verità la cosa la do solo che di solito si scopa quando si è ubriachi si signora vabbè capisco capisco che cazionale tinterna tricata capissi ma riusciremo a risolvere questo problema davvero non dormo una notte è troppo grave come hai detto scusi scopo troppo non dormo una notte è troppo grave voglio dei risultati certi certo signora va bene mi attengo le sue volontà tenetemi informata a risentirta a prostata luke si amore non fare troppo targ voglia di presti sono dai miei torno presto baci ti amo ti voglio bene anche chi ha le valigie si signora porcellona per lento di oggi ho deciso di farci un giro del dito si grazie sono stanca di apparire sempre troppo troppo il truppo te poi il make up è un impulso missione del sistema con su zizzico in cui viviamo che ne pensi? ma certo tesoro grazie sei un adulatore scattiamo? il panorama qui è fantastico andiamo mettiti qui e non per lento per lento nella vita non si può andare solo vanno ci sono delle cose che arrestano il nostro cammino che ci mettono in ginocchio ma non bisogna aspettare il colpo di grazia bisogna reagire alzarsi e lottare per la pace dell'anima crema battante fuori maledetto grazie